bene oggi avevo tirato fuori 5 4 o 5 ancora stereo play vecchi ma due bastano più che sono più che sufficienti allora io qua col mio modellismo mi sto facendo i carrelli i carri da collegare dietro alle motrici insomma ecco americane e me li faccio io insomma ecco perché tante persone diventano mate spendono capitali enormi 80 100 200 euro per andarci a comprare un modellino vabbè ognuno ha le sue esigenze allora stereo play qui siamo al anno numero 2 al numero 8 ottobre 1973 quando costava 500 lire perfetto allora io ho fatto dei segnalibri perché qua allora ken sonic e tiriamo via il primo segnalibro e qui l'importanza di un marchio l'rcf che aveva come già dischi un garard e l'amplificatore se voi guardate questi qui sono esattamente i view meter del 907 della philips quindi di conseguenza abbiamo già capito la provenienza di questo amplificatore andiamo avanti io quando parlo della excels sound che la gente si mette a ridere e no c'è poco da mettersi a ridere agente per l'italia aspetta che si mette a fuoco come vuole lui genel corso francia torino che era uno milano e torino erano uno dei due poli dove eccola qua testine excel la es 70 e x andiamo avanti tiriamo via un altro segnalibro e qui scopriamo audio research che era dalla audio italiana via pinerolo roma texon e faceva gli elettrostatici che oltretutto tenevano potenze di 500 watt normali distorsione addirittura non misurabile un metro e 83 per un metro e 22 di larghezza perfetto qui invece abbiamo la voxon che faceva anche autoradio quelle piccole rosse quelle piccole che erano verdi e nere ma erano proprio 4 centimetri per 7 da mettere in macchina giriamo pagina ecco allora rammento che siamo nel 1973 e qua già comparivano i primi dischetti dell'audio e si chiamava la still vision un passo da gigante nell'era dell'informazione e qui ci sono i dischetti che girano col telecomando ovviamente collegato via cavo e qua c'è lo scatolino con dentro il dischetto quindi siccome che ho avuto e pensavo a qualcuno di sbugiardarmi allora qui siamo esattamente a ottobre 1973 carta canta ragazzi still vision e dunque i dischetti di lettura eccetera eccetera esistevano già all'epoca poi c'era la yamaha giriamo pagina un'altra mia vecchia conoscenza è la vega che montava dual e questo qui era vega che è piuttosto imparentato con la brown la vega né giriamo pagina a berlino la teledine americana ah che belli che sono aspetta un attimo mi metto contro luce perché tunnel amplificatore teledine giriamo pagina quando gli avevo detto che ero vicino come assistenza tecnica alla selmin e che dicevo che era qua vicino a casa mia sirmione e cioè desenzano del garda è il paese dopo sirmione eccolo qua la hp selmin di desenzano del garda costruisce artigianalmente diffusori omni direzionali spaccia crespander toroidali e radiali sono in materiale metacrilato il modello di sopra è il baby questo qui era il più piccolino e questi qui erano i più grossi allora ricapitolando hp selmin di desenzano del garda tanto per fare gli onori a qualcuno e qui siccome che erano esposti a milano c'era anche la signora carrà la raffaella carrà eccola là dov'è allo stand sony giriamo pagina e qui abbiamo gli eagles americani era un'altra ditta che da noi non è mai stata tanto recepita la eagles international faceva amplificatori sinto amplificatori 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 diciamo stereofonici e quadrifonici e via discorrendo giriamo pagina ecco qua questo qui è il primo laser disc al festival di cannes e qui c'è il lettore di laser disc e là c'è la televisione e qui c'è il lettore e rammento per l'ennesima volta siamo in ottobre del 1973 capito ci siamo poi un altro segnalibro guardate che roba che rassegna di registratori a bobine ce n'è per tutte le salse per tutti i tipi e per tutte le tasche giriamo pagina se ce n'è ancora una e qui ce n'è ancora un'altra pagina ecco fatto io ho questo signore qua e poi c'è anche un sony 3004 abbiamo un sony cioè un tiz 3004 giriamo pagina perché non provate anche voi questi qua sono i tweet sono i medi e gli acuti della eco che abbiamo visto nel video precedente e qui c'è il giradischi eco con il braccio della grace e qui abbiamo un irtel come amplificatore dunque amplificatore irtel in scatola di montaggio giradischi anche quello lì da montare e le casse della eco andiamocele a vedere ecco qua questi qua sono i kit adesso andiamo qua qui la fase di montaggio e questi qua sono quelli che avete visto nella volta scorsa i medi della eco i tweet della eco e qui con i crossover già montati basta solo saldarli e via ora andiamo avanti ecco qua e questo qui sarebbe il giradischi già montato pronto per aver installato il braccio ecco qua e questo qui è l'amplificatore irtel il 240s irtel è italianissima la eco andiamo a vederci eccolo qua il giradischi montato è tutto andiamo avanti e qui abbiamo i grandi della storia il signor Torrens il 16 marzo 1883 Herman Torrens fa registrare al tribunale di commercio di Stikhoix villaggio della Svizzera la sua attività di costruttore di Carillon e poi dai Carillon praticamente è passato ai giradischi ora siccome che siamo nel 1800 giradischi a manovella i vari meccanismi andiamo avanti questi qui sono gli incisori della Torrens ecco di qua le macchine di incisione gli amplificatori a valvole che erano applicati dentro e questi qua sono i giradischi Torrens degli anni 40 50 andiamo avanti e il figlio nel 1973 si chiamava Remy Torrens l'attuale presidente questa qui è la fabbrica c'è l'attuale l'attuale di allora ovviamente andiamo avanti e qua ci troviamo la ECO e qui l'LS 78 dell'elenco andiamo avanti ancora e qui ci troviamo la ATCO di Milano che importava la NICO la Quad la Rexina e la Microseiki eccolo qua questo qui è il Microseiki mentre l'amplificatore è un NICO e questo qui è un Quad e il registratore è un Rexina Rexina chiamatelo come volete qui abbiamo un Luxman questo qui è un integrato e questo qui è il Pre bene chiudiamo qui e guardiamo il Marans vediamo l'altro questo qui fa capo a gennaio 75 lire 600 con l'avvento dell'anno nuovo è aumentato di 100 lire e qui c'è in prima pagina un SAE che ci assomiglia abbastanza ai Marans perché la scuola di pensiero era quella questo qui è stato quello che mi ha regalato mia mamma come primo amplificatore bello che io poi ho venduto 2-3 anni dopo a un mio amico che si chiama Signori Egidio che faceva il muratore adesso c'è un bel po' di appartamenti e sta bene e non ha problemi e via adesso un attimo qui poi c'è una fabbrica una marca che ormai è scomparsa e si chiamava la Goodmans qui c'è l'Assagno perché tante persone pensano che l'Assagno forse sia roba da marocchini invece l'Assagno praticamente qua c'è già i tasti a sensore digitale quattro canali che si possono fare due su una parte e due sull'altra oppure quattro canali su traccia intera ricordatevelo bene ecco qua qui poi c'è la Hirtel eccola qua questa qui è famosa Hirtel con tutti i suoi apparecchi ne ha fatti tanti però tecnicamente parlando erano ancora concepiti con la lamiera piegata e stampata all'europea quando ormai in Italia alla gente non piaceva più questo discorso eravamo già entrati nell'onda nipponica poi c'era la Perser Hi-Fi eccoli qua i capitani della Perser e anche qua sempre Vicenza Italia qui invece abbiamo le casse della Dahlquist un nuovo grande nome Dahlquist che non era altro sorto dalle ceneri di Saul Benjamin Marans il nuovo top parlanti è pronto si chiama Dahlquist di Q10 contiene un crossover molto sofisticato che divide le bande audio in 5 parti da 30 400 400 1000 1000 6000 6000 12000 12000 27000 un woofer da 25 eccetera eccetera inutile che siamo qua a leggere se no siamo qua tutto il D poi c'era un marchio italiano che si chiamava Augusta che molti non conoscono però era fatto degnamente bene ora questi qui sono i blocchi di finali destro sinistro trasformatore e scheda di preamplificazione e tutto quanto ecco qua Augusta e questi qua vi facevano vedere dentro com'era andavano dai 40 watt ai 50 watt dipende dai due modelli poi c'era la Philips che faceva la cassa attiva amplificatore incorporato e le casse della Marans anteprima mondiale il geladischi elettronico della Gale eccolo qua un attimo che vediamo se riusciamo a tirarcelo su un attimino col braccio smè bene andiamo avanti ecco qua vi spiegano gli autoparlanti come vi li ho sempre spiegati io al contrario dei certi dottori professori ingegneri che parlano parlano sbaglioccano ma dopo alla fine se li tirano via il computer da sotto le mani qui là poverini vanno a lavare i piatti allora come funziona l'autoparlante come si forma l'onda sonora come è fatto l'autoparlante eccolo qua questo qui ho il twitter ovviamente e questo qui è un acoustic research AR e questo qui praticamente l'onda come si trasmette all'orecchio e al timpano eccetera eccetera quindi di conseguenza materia di studio ce n'è come sono fatte le casse il sistema ha due vie tre vie quattro vie con cinque autoparlanti i sistemi audio e tutto quanto e qui andiamo avanti ancora e la tipologia di casse come erano fatte cosa si poteva scegliere come erano fatte dentro queste qui sono quelle della keffne ecco questa qui è bellissima che è AMT della ESS audio audio radio R pannelli elettrostatici e anche qui della Janssen qui invece abbiamo la Bose e questo questo invece è un sistema labirinto acustico questo qui invece ha trappola acustica e via oh là sull'altro numero abbiamo visto i registratori e qui vediamo pressoché tutte le casse le casse acustiche più vendute in Italia AR AR Dinaco Warfidel ESB Goodmans Janssen Keff Corale Lick RCF Sansui Augusta altre AR Altec Dinaco Coral Decibel 104 Keff che costava a quel tempo la 190.000 lire poi abbiamo la 3A ad agio la KLH che non mi è mai piaciuta ESS Bose Philips Sansui andiamo avanti e qua ce ne sono ancora ecco qua ragazzi allora per da 200 a 500 mila lire abbiamo Altec Valencia ATM1 le ERESI RCF le BR300 le Jensen Emerson AR3A Bose 901 BEV DM2 ECO GBL Lancer e Fischer più di 500 mila lire R LST Audio Reser che costava 1.980.000 lire e le electric voice electric erano ciclopiche però è un po' difficile tenerli in casa queste qua alte 1.30 larghe 84 profonde 70 centimetri le GBL le super monitor che poi sono diventate le 4350 la versione dopo e queste qui sono quelle che agio io le belle clips che costavano 1.400.000 lire poi le HOM che costavano 700 e rotti le SAE KLH e qui abbiamo le BEV DM70 le Infinity queste erano veramente belle e GBL le studio monitor che costavano 645.000 lire praticamente anche la grossa GBL la 4350 costava 1.440.000 la stessa cifra delle clips delle belle clips cifra la gente si riempie la testa di chiacchiere ma questa qui è la prima AR 1954 con amplificatore a valvole e questa qui è la R 3A l'ultima che hanno fatto nel 75 testine della grado fino a 40.000 hertz pensate voi che siamo nel 1975 poi abbiamo la Janssen la Z 134 che è un pannello 4 pannelli elettrostatici qui abbiamo i mixer vari e qui abbiamo la Teleton best seller in Europa ora qui a destra vediamo che è una vega questa qui praticamente non è altro che un impianto della vega con la v doppio vega anche perché la Teleton era una commerciale non era un produttore e quindi è inutile che poi Emerson eccolo qua quando io avevo detto che c'era l'Emerson che aveva un buco davanti dove c'è la spia e tutto quanto e uno dice mai visto un Emerson che abbia a due terzi a destra un buco eccolo qua dov'è l'etichetta e sotto c'è il buco qui abbiamo quelle signore là quelle che punto io con il ditto quelle due lì appaiate davanti all'epico 3.0 che sono esattamente le Celestion le Ditton 66 studio monitor eccole qua dove sono e che sono quelle là dal vivo eccole là quelle due là ecco qua c'è la presentazione di tutti i dischi d'autore Deodato Pierre Bullets qua fanno musica classica e musica assieme non è che facciano tanto distingo qua col trane Santana Pate Gallert insomma il Perigeo la Valle dei Templi e via discorrendo andiamo avanti un pochino e qui tiriamo via ecco come facevano i crossover una volta facevano i crossover li attaccavano con uno sputo e facevano i collegamenti volanti ecco e c'è molta gente che snobba queste qui sono le AR se voi andate a comprare questa cassa la R1 con dentro questa schifezza che voi dite che è una schifezza le pagate adesso 2500 euro se le volete altrimenti questa schifezza la lasciate giù a chi ce l'ha perché se non li date 2500 euro la coppia questa schifezza qua mica ve la portate a casa ecco adesso c'è due pagine intere della KEF il modello 104 perché è stato un modello rivoluzionario che c'è un amico che ha scritto che le tiene care come l'oro e giustamente le usa poco per preservarle no no puoi usarle tranquillamente un bel amplificatorino da 20 watt per canale tranquillo beato ascoltati la tua musichetta country oppure jazz oppure musica classica oppure musica diciamo etnica irlandese eccetera eccetera che queste te le puoi ascoltare tranquillamente vai tranquillo va poi in fondo abbiamo un bel grundig 18 cm di bobine ah che bello che è se metto le mani su uno di questi lo compro volentieri perché giù di sotto un giorno o l'altro vi porto dove ho le bobine registrate che vanno da 10 cm fino a 26 ne ho circa 2000 di bobine sia in alluminio sia in ABS trasparenti e tutto quanto già registrate e da registrare ne ho uno scaffale che parte da qui fino là in fondo con tre piani tre piani alti perché i tre piani basi sono pezzi di impianto stereo e io ho due o tre registratori a bobine però il problema è che uno fa solo 19 cm al secondo che sarebbe il 3400 l'altro fa il 9 e il 19 mentre un sacco e una sporta ce le ho a 475 giri al minuto perché una volta i registratori della Geloso facevano le bobinette piccole da 8 o 9 cm e duravano e facendole girare lentamente la qualità ovviamente non era eccelsa però una bobinetta così ti durava almeno un quarto d'ora 20 minuti se una bobina così la fai girare a 9,5 75 o 19 cm al secondo nel giro di un minuto e mezzo hai già risolto il problema della bobina e la cosa non va molto bene ora dunque per farli durare nel tempo usavano fare velocità molto basse ecco io ne ho un sacco e una sporta fino a 13 cm di quelle bobinette lì che registravano dal vivo i discorsi le conferenze si registravano canzonissima e tutto quanto si registravano e per ascoltarle ho bisogno di macchinari che girano esattamente a quella velocità che io ne ho due della geloso però uno va e non va l'altro c'ha la puleggia che ormai si è incrostata si è un po' fusa e quindi sono a piedi di quel tipo di registratori ecco qua e questa qui è la centinatura che faccio io col filo di ferro zincato da un millimetro per le capriate mentre 0,7 per le traverse in modo che il telo da qui a qui non cada con l'acqua ora dunque ci sono questi per fortuna che c'è un elettrosaldatore micro che mi fa le puntatine anche sulle roba da un millimetro che io la uso prevalentemente sul modellismo per fare queste robe qua e adesso andrò avanti perché di cari ne ho fatti 4 5 in 1,6 allora due li faccio con le capriate alte uno lo faccio con le capriate più basse un altro invece lo faccio per trasporto aperto è questo qui giallo adesso devo finirlo fuori perché questo qui mi è venuto in mente di fare un apparecchietto e c'è un rimorchio che trasporta cose un po' particolari tipo macchinari eccetera eccetera queste qui sono le stecchette che qua da noi vendono per mescolare il caffè quando vai al bar sono di bambù sono larghe 4 millimetri e mezzo sono lunghe 12 centimetri e di spessore fanno 0,5 millimetri che io le uso per modellismo ne uso dosi industriali di fatto ne compro 10 pacchetti alla volta e ogni pacchetto ci sono dentro 100 stecchette praticamente prendo mille stecchette alla volta insomma tanto costano 50 centesimi al pacchetto da 100 non è che costano un miliardo mille costano 5 euro dunque e con questi faccio tutti ecco qua sotto ci ho fatto la cassetta per metterci le corde quando legano i teloni e tutto quanto il retrotreno l'avantreno e tutto quanto e questo qui è la motrice che sarebbe un 281 della Peterbilt bene ciao a tutti ragazzi il modellismo l'ho messo così tanto per infrancare un po' la memoria però il video era incentrato sulle riviste hi-fi ciao a tutti